E poi entriamo al Cilea in punta di piedi con grande umiltà e con grande voglia di realizzare quest'altro, quest'ulteriore sogno, quest'ulteriore follia che stiamo pensando di fare. Speriamo che la gente ci accolga a braccia aperte come ha fatto al Siracusa. Sì, perché la prima... ci stimoli ogni giorno, quindi ce ne sarà una seconda, una terza, speriamo. Creata dall'Officina dell'Arte, una compagnia teatrale fatta di amici, di artisti, di professionisti. Esatto. E sono riusciti a creare un cartellone, un posto da otto spettacoli, ce ne vuole parlare? Sì, intanto mi soffermerei sugli amici, sugli artisti e sui lavoratori dello spettacolo, perché siamo nati, giusto come hai detto tu, da una questione di amicizia che ci lega. E poi ci lega la passione per il teatro. Ognuno di noi aveva dei cammini artistici personali, li abbiamo messi insieme, è nata questo laboratorio, questa officina di artisti. Quindi il cartellone che abbiamo pensato è importante, non perché quello che abbiamo fatto l'anno scorso a Siracusa lo fosse meno, ma perché ora le astine cominciano ad alzarsi. E quindi, a parte la presenza della compagnia teatrale dell'Officina dell'Arte, di cui mi onoro di farne parte, ci sono degli artisti di livello nazionale come Dario Cassini, Massimo Lopez e Pablo Eppetro e sicuramente fanno parte, con grande piacere, di questo cartellone anche Misefra e Battaglia che hanno calcato i palcoscenici nazionali da più e più tempo e continuano a farlo. Comunque al direttore si vaio per il 21 novembre l'Officina dell'Arte. L'Officina dell'Arte. Il debut della paura della prima è tutta nostra, però come sempre affrontiamo con grande divertimento e con grande voglia di fare tutto quello che lavoriamo durante l'anno. È ovvio che entrare al Cilea, che a Reggio rappresenta il punto d'arrivo per tutti, perché diciamo che il teatro principe in città mette un po' paura, ti fa riflettere su quello che vai a fare, su come lo devi fare, su come ti devi approcciare. Noi abbiamo scelto la linea nostra, quella del sorriso, quella dell'allegria, della comicità e io dicevo ai miei amici, ai miei compagni di viaggio di non pensare al Cilea, ma non perché vogliamo mancare di rispetto alla struttura o alla maestosità del teatro, perché se si approccia il Cilea, pensando al Cilea, si rischia di finire nella fossa prima di salire sul palcoscenico. Invece noi ci approcciamo al Cilea consapevoli di quello che andiamo ad affrontare, con grande umiltà ma con il sorriso. Per noi il palco del Cilea è come il palco dell'Oreto dove abbiamo iniziato, è come il palco del Siracusa dove abbiamo proseguito e speriamo sarà come il palco del Sistina dove andremo a debuttare un giorno forse. Lei li chiama poi di Manestrelli, si chiama dei sognatori e secondo me sarebbe giusto dire i nomi. Mamma mia, senza di loro dove si va? Io inizio con, ve li descrivo un po', ve li pitturo un po'. Noi abbiamo uno scenografo principe che è Carmelo Lorè. Io vorrei portarvi, portare le telecamere nel nostro laboratorio per vedere come sta lavorando ora. Gli sono rimasti vitali, 14 centimetri per muoversi. È pieno di spezzati, è pieno di attrezzature, è pieno di cose. E' aiutato da Pasquale Meduri che è un altro personaggio importante dell'Officina dell'Arte che oltre ad aiutare la scenografia fa anche il fonico. Poi abbiamo Roberto Lacrotteria alle luci e poi sul palco invece andiamo con Antonio Malaspina, Patrizia Britti, Tiziana Romeo, Agostino Pitasi e Marilla Fortuni. In questo spettacolo del debutto del 21 novembre si aggiungeranno a noi Giorgio Casella che è un artista che io ho conosciuto l'anno scorso e ho avuto modo di conoscere le sue qualità e di apprezzarle. È una ragazza che ha l'esordio che è Luisa Zappi, che speriamo di coltivare nel senso artistico e di portarla in più e più commedia. Ma questo era la parte del palco. Ora si scende dal palco di nuovo e abbiamo il maestro della fotografia che è Gianni Siclari che è un grande amico e che è il nostro fotografo direttore. Abbiamo un ufficio stampa del quale io vado fierissimo anche se dalla regia mi fanno delle mosse. Lo devo nominare perché l'ufficio stampa va nominato. nella persona di Grazia Candido, che devo ringraziare pubblicamente se no non conoscevamo neanche una riga di giornale. Anzi, con tutto l'apporto di Grazia Candido ogni tanto invece di darci nove colonne ci danno il franco bollo perché ci sono degli eventi molto più importanti che quelli dell'Officina dell'Arte in città. e quindi siccome noi siamo cittadini di questa terra veniamo messi come sempre in secondo piano però un giorno se ne accorgeranno e poi quando dovranno fare le nuove colonne con noi noi non ci saremo più, nel senso che non gliele faremo fare le nuove colonne. Questa era una breve polemica che lascia il tempo che trovo. E quindi dicevo l'ufficio stampa che ringrazio pubblicamente perché veramente ora a parte ogni scherzo e ogni battuta ci ha dato modo di superare determinati paletti giornalistici e ci ha dato una grande mano perché è una professionista seria. E per concludere abbiamo anche un videomaker, oggi si dice videomaker, uno che fa le riprese con la telecamera che è Gianluca del Gaiso, secondo me altro folle perché tutti i folli abbiamo. Forse l'unica è Grazia che non è folle all'apparenza però. Comunque è una bella squadra fatta veramente di grandi sorrisi e di grande stima reciproca e questa è la cosa che ci preme di più. Poi se arriverà qualche dollaro per rimpinguare il mutuo saremmo pure felici e contenti. Una squadra che comunque si abbale anche di sinergia e infatti nel cartellone ci sono anche i nomi nostrani. Come no? Certo, ma io le ho menzionati per ultimo insieme agli artisti di livello nazionale ma non perché sono gli ultimi, perché per me sono i primi, numero uno perché sono miei concittadini, i miei amici e io sono un loro stimatore. Numero due perché veramente, le gente che fa teatro e televisione non deve essere Peppe Piromalli a dire chi sono mi sa fare battaglia. Sono quello che sono, sono un pezzo di storia di questa città, un pezzo di storia d'Italia perché gente che ha lavorato al Salone Margherita, al Bagaglino, con Pippo Franco, con Leo Bullotta, con Oreste Lionello, con Pingitore, cioè Peppe Piromalli può solo portare le valigie a queste persone. Ma io mi approccio così, con tutti, con tutti e credo che se questa atmosfera poi si allarga e tutti la pensiamo un pochino così, secondo me le cose diventeranno più belle, sia per Reggio, sia per l'arte, sia per tutto. Il 27 febbraio porteranno una prima nazionale che si intitola Dietro la Porta di Gianni Quinto e ci hanno dato il piacere e l'onore di vedere questa prima nazionale che partirà da Reggio e poi sarà sicuramente a Roma e poi in altri teatri italiani. Io non so ora le loro tappe, però le sapremo. L'appuntamento più... L'appuntamento più... Oltre all'appuntamento vorrei chiarire una cosa che a me sta molto a cuore, Tutto questo cartellone che è fatto e intriso da grandi artisti di livello nazionale davanti ai quali noi ci inchiniamo e ci togliamo i cappelli vari io lo porto apposta perché ogni tanto mi capita di toglierlo davanti a gente più importante di me e sto parlando di Lopez, sto parlando di Cassini, sto parlando di Pablo e Pedro sto parlando di Miseferre Battaglia Tutto questo è stato fatto perché, come ho detto in precedenza, a Reggio, alla gente di Reggio, a gente che ci ascolta e che ci vedrà deve rimanere tatuato nel cuore e nella mente il nome dell'Officina dell'Arte che è gente che dal nulla ha creato una cosa che credo, credo, da tanto tempo non si vedeva a Reggio e con soldi propri, senza un contributo da nessuno quindi, sì, poi possiamo essere meno bravi, possiamo essere bravissimi o bravi quello poi lo stabilirà il pubblico quando finiremo la commedia se si alza in piedi, ci batte le mani o anche da seduti vuol dire che abbiamo fatto il nostro compito però intanto abbiamo fatto una cosa mostruosa perché noi abbiamo messo impegno per 60.000 euro per costruire questo giocattolo 60.000 euro che abbiamo preso dai cassetti di casa nostra quindi, che vi devo dire di più? In vita, in vita, io vorrei invitare tutti i botteghini rimarranno aperti fino al... no, saranno sempre aperti fino al 21 con i nostri, con i biglietti della prima commedia che è 3 e dal 21 in poi con tutte le manifestazioni che ci saranno da qui al 28 maggio che ricordo sono 3, che è una commedia brillante di Jay Smithers con la quale debutteremo noi non vi sto a raccontare la storia perché è una storia fatta di equivoci fatta di velocità sul palco, una bella cosa da seguire e da sorridere il 10 dicembre abbiamo Dario Cassini direttamente da Zelig con le sue classiche performance sull'amore, sulle donne, sul sesso dicevano che il sesso al Cilea non può entrare non l'ho capito perché, se era un convento forse forse, forse, perché visto quello che combinano al Vaticano ci starebbe anche il sesso al Vaticano, però voglio dire comunque, Dario Cassini che non devo dire io chi è il 9 gennaio ci farà l'onore di calcare il palcoscenico del Cilea Massimo Lopez con un suo spettacolo che è musicale e comico nello stesso tempo proseguiremo noi il 30 gennaio con una commedia di Aldo De Benedetti che si chiama Due dozzine di rose scarlatte sempre commedie da ridere, brillanti il 27 febbraio avremo Misefara e Battaglia, come dicevo, dietro la porta il 12 marzo abbiamo un esperimento esperimento che noi abbiamo voluto fare come officina dell'arte si chiama Folli, Folli, fortissimamente Folli è una specie di contenitore di pezzi di teatro, di musica sto cercando di coinvolgere un'altra anima regina secondo me importantissima in questa città è un musicista, si chiama Luca Scorsiello con il quale abbiamo ieri intrapreso un discorso per vedere di portare dentro questo contenitore anche la sua arte questo sta a significare che io a Reggio ci tengo ai reggini ci tengo e quindi continueremo con Pablo e Pedro il 30 aprile altri comici di Colorado che stanno facendo una scalata bellissima nel panorama artistico e finiremo noi il 28 maggio con un classico del teatro come dico io da ridere che è la banda degli onesti dal film di Totò e Peppino con i soldi falsi comprate il sigaro, mezza saponetta insomma ci divertiremo è una cosa veramente da gustare arrivederci a presto al Cilea siamo sempre aperti notte e giorno notte le scelte sono i soldi quindi solo ciò dесь